Bella regà, bella Qua caosti e vi è Ichpay E' il suo fratello Bass Stiamo a fare lo skit per presentarvi la serata di domani Dove suoneremo all'Evergreen L'inizio dell'evento è alle ore 3 Noi suoneremo alle 8 Mi fratello mi farà le doppie Che è uscito da poco comunque Però allora domani Come abbiamo detto l'inizio alle 3 Noi suoneremo alle 8 E ci saranno numerosi gruppi Che stai finando Provenienti dalla dinasy E ci sarà neomelodico Beatbox, keystyle Rap, all-pop Ci sarà poi pure Metallaro, rock E comunque è una bella cosa Cercatevi in tanti L'ingresso è gratuito, non si paga un cazzo Se volete darci qualcosa E ricavate comunque I fondi andranno tutti per pagare l'attrezzatura E ci servirà i suoni che abbiamo noleggiato Noi non serviamo un cazzo in pratica Lo facciamo così per farci conosci Insomma Tutto gratis, regà Tutto gratis Ci tagliate voi E ci tagliamo fino a tantà Vedete voi che vi divertite Venite in parecchi, regà Portatevi più gente possibile Fate in bocca pure Gente da Dal costo Quindi sono io Fatevi più gente possibile Allora Viene tutto Voglio dire l'evento È stato organizzato Grazie alle scuole Sì Infatti sarà Land of School Per festeggiare insieme a tutti Comunque La fine della scuola E Presenterò appunto Il cd Tronerò 4 brani Che Tutto ora stiamo provando Sì Ce li abbiamo qua I pezzi E' stato l'uno Dieci di notte E sto con lo cd Fino al ginocchio Non lo so Per trovare i maledetti pezzi Cioè i maledetti però Sono belli Quindi cercate di venire i domani Supportate Che ce n'abbiamo bisogno Soprattutto l'ipop Che è un genere Che comunque Fino a poco tempo fa Non andava molto in Italia E manco me Diciamo È avversita un po' de mode La cosa Però comunque C'è bisogno delle gente Quello stiglio Quindi vedetele venire Ore 20 Kaoski Aka H3 E Fratello Baze Che è il film Di A6 Ore 20 Pronto al Majorana Raga Ricordatelo Bella raga Peace Ciao Ciao Ciao